Anche in Toscana come conseguenza della fine dello stato di emergenza nazionale da venerdì primo aprile vengono riorganizzate le attività di testing e tracciamento dell'infezione da covid-19 e rimodulati alcuni strumenti operativi ecco cosa cambia i test i test antigenici o molecolari per l'accertamento del covid in persone sintomatiche o di fine isolamento se le persone sono risultate precedentemente positive verranno prescritti dal proprio medico curante e saranno eseguiti gratuitamente presso le aziende sanitarie i tamponi dovranno essere prenotati come di consueto sul portale della regione tampone in farmacia sarà ancora possibile per tutti i cittadini di ogni fascia d'età purché asintomatici effettuare privatamente e senza ricetta medica i tamponi rapidi nelle farmacie che offrono questo servizio quarantena dal primo aprile non è più prevista la quarantena per i contatti di persona positiva al covid accesso ai luoghi di lavoro per quanto riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro la nuova normativa ribadisce che la fine dello stato di isolamento avverrà solo con esito negativo del tampone ma che per il lavoratore che ha contratto la malattia oltre all'esito del tampone negativo è ancora necessario un green pass in corso di validità